Conta su di noi si inserisce nel filone di altri progetti attivati dal 2014 di MAG Società Mutua per l'Autogestione, chiamati Mi Prendo Cura e Non Di Solo Pane. L'obiettivo è mettere al centro il bisogno di chi specialmente in questo periodo ha difficoltà a gestire le risorse economiche e dare strumenti di conoscenza indispensabili. Un proseguo di un progetto di educazione finanziaria che vuole essere al fianco di persone che si trovano in una situazione di fragilità economica e anche sociale ma non solo, anche di persone che vogliono riflettere sulla loro gestione finanziaria. Questo progetto offre percorsi di bilancio familiare, avvio di impresa, supporto alla ricerca del lavoro ed educazione finanziaria. Proprio oggi parte un corso online gratuito per aspiranti volontari su questa tematica, mentre il 27 novembre ne parte un altro rivolto ad operatori sociali. Ci saranno poi ulteriori corsi, noi li chiamiamo di alfabetizzazione finanziaria, corsi per poter dare appunto gli strumenti alle persone per capire quali sono le loro potenzialità ma capire anche quali sono i pericoli, per prevenire un po' tutti quei casi di sovraindebitamento. Si può risparmiare fino ad un 30% delle proprie spese con un'attenta gestione delle risorse familiari, affermano alla MAG. Oltre a questo, Conta su di noi offre supporto gratuito per l'avvio di impresa e per la ricerca del lavoro dipendente. Lo sappiamo e lo vediamo con i nostri occhi, il lavoro è e continua ad essere probabilmente il problema principale degli ultimi anni. Noi siamo un ente accreditato per i servizi al lavoro e quindi possiamo offrire un accompagnamento, un orientamento anche proprio per l'inserimento lavorativo, quindi con tirocini ma anche con un accompagnamento diretto, appunto un collocamento diretto.